E naturalmente, diciamo, a parte delle coperture, senza capire, perché non è che la popolazione è che sono quelle di autorizzazioni individuali, quelle avverranno, diciamo, riteniamo che, tutto sommato, di poter arrivare, cioè, di voci come obiettivo natale di quest'anno per il gruppo e per il gruppo, come sapete, se volessimo rispondare, perché non è che la popolazione è stata causata, e no, dobbiamo avere, dobbiamo essere minima di vento, di spossare, i materiali, che possiamo essere andati a portare il gruppo di persone. Quindi, per noi, per il magistrato che va adesso là, è il pubblico di gennaio, noi dobbiamo essere contenti, diciamo, di servizio, di servizio, perché probabilmente va a fare un po' di tre settimane, che sono materiali, che sono stati, naturalmente, ma non veramente, bisognerà andare avanti, perché, sicuramente, con la parte autorizzativa e tutte le politiche di autorizzazione che possono essere fatte esatte prima di un'opportunità di un'opportunità, quindi, diciamo, sarà un periodo molto amporioso, molto complesso, però, diciamo, noi dobbiamo riuscire a questa situazione, secondo me, se abbiamo rilasciuto di questa situazione, la parte economica finanziaria è già, diciamo, la realizzazione, che è parte di vista della partita, di un'opportunità, di un'opportunità, di un'opportunità, di un'opportunità, di un'opportunità, di un'opportunità. Detto questo, se c'è qualche domanda, il Presidente può essere più chiaro?